il video lo scherzo ma invece quando mi hanno chiesto ho detto si però ho detto fino ad oggi è così ma nel corso dei giorni possono cambiare le cose anche io molto è tutto in progress ma comunque è strano ragazzi questo gioco per me è ancora più strano perché io non l'ho ancora manco mai visto perché tu non l'hai mai visto non l'ho mai visto aspetta il pomodoro per la bruscata per voi no per voi per lui perché tutti quanti bisognava cambiare mi metti a me solo un po' di pomodoro senza pare e così mi piace ti voglio qua allora guarda a torso lo nudo ragazzi la qua si usa quando venite a trovare vedete il volto fai così sono in giro così? no la sera quando ho volto i vari blocati vado così con la gravata ma poi dai così con la gravata certo nodo l'hai dato lentissimo vabbè dai ci faranno entrare dopo anche così ci pregheranno? sì no ho detto una battuta dai su svegliati vuoi un caffè? ha fatto effetto cano certo lo sapevo e ti ho detto fuma dopo cena fuma dopo cena che ti avevo detto? devo ascoltare c'è in grado? sì la serie dov'è che stavo troppo io? chiedi io non lo so agli anni vedi qua rumanace conosci Claudia mia? mi piace lei non mangia pane? oh però ragazzi io mi sento mi sentito da 13 anni e ce l'ha da tua più o meno ce l'ha da 32 miacci miacci? sì fa la sesta di volo all'air one non so che è un'altra cosa però no però no però magari vi conoscevate no non lo conosci la mia amica sì si è una vecchia si senti di volo i colleghi dell'air one non li conosci nessuno dell'air one piloti? sì uno solo cos'è? Daniel Blasi pulino cos'è? sì anche il sughetto va bene va bene lo ti faccio se vuoi te la scrocchio lo sai come si fa? e da dietro di dietro ragazzi ma abbiamo le scodelle per il minestrone o no? qualcuno ma quanti fondi? ma qualcuno mangerà il minestrone o no? tutti quindi ho fatto una cosa giusta dico cosa buona e giusta è frullato non è frullato non ci abbiamo il frullatore poi ti diamo ma ti ho fame però ragazzi ragazzi io ti ho fame andate a chiamare qualcuno va a chiamare ma ora tanto va a chiamare quando lei dice ma lei con il bigodino rimane lì ma lei fa la serata col bigodino proprio così fantastico io penso che nessuno vorrebbe farlo tu così un pochino di finché non vado a espellere ma io mangio poco se no divento come barba papà ah gli ho chiesto un pochino un? un confettino falco che me lo dividevo con te hai gli ho chiesto? mi ho chiesto? se dimentico comunque non dite Marco è antico c'è cent'anni poi non so neanche più se si chiama così se esiste più quello ti ricordi? sì 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 marco c'è ma marco ah no ma non lo so oh ma hai capito marco non so se sì ma sì ma guarda come sta il tiro ci stanno tutti là mi tiro ragazzi che metterei tutte là il bancone così no ci metteressi vedete tra l'armadio tutte quante le giuro vuoi essersi si vestite l'entrata poi se eh ci sono le prove sincero sincero come ci vedete come hai guardato la pedaglia lo so metto un asciugamano sopra no io non ho problemi con no io non mi vergogno io non mi vergogno io sì altissimo cioè non è che non è che faremo mai un film mai nella vita mai ragazzi però non mi vergogno poi non penso che è fatto talmente tanto bene sì che non si sentono le telecamere è vero è vero è vero non si sentono le telecamere per quello io lo farei uova perché non te ne accorgi cioè avete metabolizzato la telecamera voi e tu ti accorgi che c'è una telecamera subito quando si quando era se non è così se non si muove niente mi aprite non si muove dentro la camera senti un po' il rumore ah ci hanno fregato 3,95 3,95 c'è una muccia manca la gatta di strisce quella sotto quella ragazzi ragazzi pronto abbiamo fame ma tutto rosso non l'avete preso una bottiglia di bianco io adoro il rosso io non ho allora io adoro il rosso il vino rosso lo adoro il vino bianco mi piace di questo il vino bianco mi piace di questo il vino bianco mi piace di morire il rosso anche il rosso è pesante è pesante il manegra il stomaco però mi piace anche loro tutte e due però il bianco lo preferisco è lo champagne ci troviamo sopra ci troviamo sopra ci troviamo sopra ci troviamo sopra le pegodini in testa non parlerai se è giovane non farò muore non farò muore sorseggiarlo non ci farò no vabbè sorseggiarlo ok bravo allora prima di girare il tappo vado a tolla carta la carta vedremo 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 la diarast è bellissima se è mezzanotte passata vuol dire che non dormiamo niente cioè non mi sentiamo in pezzi anche quando questo pensio secondo me che ho scelto è tardissimo è tardissimo ragazzi è la diarast poi rispetto l'effetto qua è però ma piove di nuovo basta è un attimo tappi gli asciugati perché fa fortuna la situazione se si bagna non so se è dal scudo ok lei l'arrivo è riuscito no ma i quello che dicevo ieri a lei non c'è farmi altro non c'è farmi altro ma non c'è farmi altro a noi è già passata forse mezzanotte noi facciamo un buon spetto io e lei a te a te un buon spetto Te la ricordi la Brex? Eh, c'ho le scarpe così, non così. Aspetta, mi vedo. Figo! Ti ricordi, ma siamo già... Lo so, lo so, lo so. Ma lei è che se ne accorta? No, guarda bambini, guarda bambini, guarda bambini. Ragazzi, che cos'è? Per esempio... Ma lei sa qual è il mago di... Ma lei sa che erano così con i partiti, con le rotelle che camminavano. Eh sì, perché sei festeggiato. Florotid! Ragazzi, ma... Florotid! Il mago di oggi, no? E poi c'è il film di mia sorella. Oggi? Eh, io di qui, io di qui. Eh, io me lo ricordo, però mi avevo paura di quei tipi che camminavano. Eh, quando ho le teste della... Le teste della... Di lei, della... Della cattiva. Della cattiva. La testa. La ricoccia, però. Sì o no? No, a me ti piacciono perché ti ho parlato in parte. E che gli ho detto, io già il primo giorno, anche dopo quella cosa, non era lei. Questa mi ha fatto capire che tipo di persona è. Perché lui ha detto, io gli ho detto subito, anche dopo quella cosa, un'ora dopo che a lei non l'avrei... Grazie. 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 Grazie.